La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Qualunque cosa rispondiamo a tutti, o almeno ci sforziamo di farlo, ma io sono abbastanza diligente almeno in questo. Allora, puntata dedicata ai siciliani, se vogliono telefonarci, 800 24 00 24, ma dedicata a tutti come sempre, perché è un aggiornamento di uno dei tanti problemi della condizione politica in cui è versa la regione Sicilia. Ci siamo occupati, ma, ad attenti ai due, lunedì mattina abbiamo ascoltato a lungo l'assessore all'economia di regione Sicilia, Baccei, perché abbiamo iniziato la settimana post-capodanno con lui ragionando sul fatto che la spiega regionale siciliana era stata costretta all'esercizio provvisorio di bilancio, non era passata la legge di bilancio e, malgrado 500 milioni, magari 900 milioni, perdonate, fatti scattare dal governo nazionale verso la regione siciliana, che la regione Sicilia considera naturalmente un arretrato del governo rispetto agli impegni dello statuto speciale riconosciuto da regione Sicilia. In realtà mancano ancora, manca ancora mezzo miliardo per consentire di chiudere la partita del budget 2016. Quindi esercizio provvisorio e nuovi problemi, come sempre, risolti sotto lo scudo dell'autonomia siciliana. Ci è capitato, con l'assessore Baccei lunedì, di chiedergli anche ragione della mancata ricapitalizzazione che l'Assemblea di regione Sicilia ha negato a chi in Sicilia riscuote le tasse, e cioè riscossione Sicilia, una società che è al 99,9% di regione Sicilia e per la parte restante, quindi solo lo 0,048% di Equitalia e che continua ad avere perdite. Era uscito un articolo su Corriere della Sera di Sergio Rizzo, nel quale si diceva che nel solo 2014 riscossione Sicilia aveva realizzato più di 20.000 euro di perdite per ciascuno dei 702 dipendenti, e quindi con perdite di 14 milioni e mezzo nel 2014, il doppio del 2013, chissà quanti nel 2015, sto leggendo testualmente quello che Sergio Rizzo aveva scritto in un suo corsivo dedicato a questo tema, riscossione Sicilia, il titolo era chi raccoglie le tasse può chiudere in rosso il record negativo di riscossione Sicilia, dove tra l'altro si documentava anche in termini di mancata efficienza, anzi di progressivo deterioramento dell'efficienza della riscossione in Sicilia, il fatto che di anno in anno vi era un calo verticale della capacità di incasso, perché la riscossione sui ruoli nel 2014 risultava scesa rispetto al 2013 del 16,7%, con crolli pazzeschi, tipo quello del meno 31,7% a Palermo, e gli incassi sugli avvisi di pagamento risultavano precipitati nel 2014, addirittura dell'81,8%. E l'assessore Bacei ci spiegò che la mancata di capitalizzazione non era un problema, insomma si sarebbe risolto il problema. Novità però che si aggiunge, abbiamo appreso da allora la singolare condizione nella quale si trovano i 90, si chiamano deputati in Sicilia, grazie ai deputati regionali, cioè i 90 consiglieri regionali all'Assemblea regionale siciliana, perché nel frattempo il presidente di discussione Sicilia ha reso noto dei dati sui quali secondo me vale la pena riflettere e ha anche reso noto una procedura nuova di trasparenza che a quanto pare nella regione siciliana verso i parlamentari regionali non veniva attuata, quindi se loro non erano in regola con i pagamenti dovuti a qualunque titolo, alle tasse e se avevano quindi dei fascicoli aperti con riscossione Sicilia, in realtà riscossione Sicilia stava buona, non è che procedeva nella diversa gradualità temporale dell'esecutività dei provvedimenti di discussione, come capita naturalmente a ciascuno di noi, povero cittadino senza tutela. Pare che in Sicilia prima non funzionasse così. Allora abbiamo chiamato a questo punto il presidente di discussione Sicilia perché dopo averlo citato senza che fosse presente con l'assessore regionale lunedì scorso, mi sembra giusto in realtà chiedere a lui le cose come stanno su le pendenze fiscali dei parlamentari regionali siciliani e per spiegarle a voi tutti. Intanto buon pomeriggio e grazie di aver accettato questo invito Fiumefreddo. Buon pomeriggio a lei, a chi ci ascolta. Allora, i 90 parlamentari regionali, quanti di loro avevano problemi aperti di riscossione? Dunque, io mi sono insediato a riscossione Sicilia otto mesi fa e ho trovato una situazione che è quella che Rizzo ha descritto in qualche modo con il dettaglio di numeri sul quotidiano, il Corriere della Sfera. Ad un certo punto ci siamo accorti che in Sicilia, da questa prima analisi, un gruppetto ristretto di ricchissimi evadeva per miliardi di Euro. Per miliardi di Euro. E allora ho cominciato a farmi fare uno screening delle posizioni importanti in Sicilia. Quindi cittadini che dichiarano più di mezzo milione di Euro e professionisti, funzionari e rappresentanti delle istituzioni che hanno una indennità e che quindi è più facile aggredire. La sorpresa è stata quando, nello scorso mese di luglio, gli uffici mi hanno risposto dicendomi che ben 64 deputati regionali, i consiglieri regionali su 90 avevano pendenze non onorate con il fisco. 64 sul 90. 64 sul 90, è il partito più importante. Anche perché, a vedere la lista, perché ci sono i nomi, è un partito totalmente trasversale, cioè praticamente tutti i gruppi da destra a sinistra senza nessuna eccezione. E i vizi sono come diciamo. 64 su 90 è però un numero... Incredibile. Allora ho pensato di fare quello che credo si debba fare in questi casi, cioè ogni mattina gli ufficiali di riscossione in Sicilia, come nel resto d'Italia, si alzano, vanno in ufficio e pignorano il quinto lo stipendio a diverse decine di padri di famiglia, i quali non è che siano tutti evasori, magari hanno uno stipendio da 1200 Euro, hanno qualche difficoltà. E allora ho detto, ma perché mai noi, invece, non lo abbiamo mai... Noi, la società evidentemente, non è mai stato fatto nei confronti dei parlamentari regionali. Ma alta, 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 alta. Prima, seconda notizia. Dopo i 64 su 90, apprendiamo che se sei deputato regionale, in Sicilia si ferma l'iter dell'esecutività dell'esazione. Diciamo che queste procedure erano all'anno zero, cioè nessuno chiedeva al deputato, rispetto invece a quello che si fa con tutti i cittadini, che si avvisano ovviamente di una pendenza erariale, nessuno chiedeva più niente. Quindi diventare deputato era come diventare... Ma, mi scusi, lei quando si è reso conto di questo, immagino, come qualunque capoazienda, lei è presidente, avrà chiesto, scusate, ma mi spiegate come mai questa cosa non procede, secondo l'iter che riguarda qualunque cittadino? L'avrà chiesto, immagino. Che risposta ha ottenuto? Naturalmente ho convocato tutti i vertici tecnici dell'azienda e, tanto per essere chiari, non è che c'è un deputato che con proterbia vai in azienda e dice adesso io non pago più, è peggio. E la risposta è stata che non è mai stato fatto. Ma perché? Chi l'ha deciso? Perché? In base a cosa? Ah beh, questo è un fatto, ovviamente, è una vicenda gravissima che io ho titolato come disoggezione d'ambiente. Cioè, evidentemente c'è una cultura, se così la possiamo chiamare, io direi che è un vizio di totale, di assoluta inciviltà, per cui alcuni soggetti importanti, si figuri la regione in Sicilia che è la madre di tante famiglie, allora nel momento in cui tu vai a toccare la regione, quindi i suoi rappresentanti, in un qualche modo hai leso la maestà. Ma io adesso, guardi, io non riesco a capire, e io spero che chi ci ascolta si renda conto di che cosa significa vivere in un paese in cui parti delle istituzioni come l'Assemblea regionale della regione a statuto speciale Sicilia, che sempre si riempie la bocca dell'intoccabilità del suo statuto speciale, sapete che io sono per l'abolizione di tutte le specialità, ma detto questo, vi rendete conto che forse se erano 64 su 90 cari ascoltatori con pendenze fiscali, una percentuale che non è uguale, perché se l'applicassimo al totale della popolazione italiana abbiamo 41 milioni di posizioni fiscali, vi rendete conto che sarebbero più di 30 milioni quelli che hanno a questo punto le pendenze con il fisco, ma se sono 64 su 90 evidentemente è perché sapevano che queste pratiche poi si fermavano e non andavano all'esazione, o no? Beh certo, dico è strano che nessuno viene lì e mi dice io devo pagare, no? Cioè è singolare che ci sia questa sorta di parola d'ordine per cui nessuno divenuto deputato ha più provveduto a saldare le sue pendenze col fisco. Allora io ho fatto quello che, ripeto, avrebbe fatto chiunque e ci ho detto bene, allora si proceda come nei confronti di tutti gli altri, cioè si avvisino, se verranno a pagare, a rateizzare, la legge prevede a quel punto il blocco delle procedure, altrimenti si andrà avanti con i pignoramenti. Sono stato convocato in commissione bilancio all'Assemblea regionale, qualcuno mi ha fatto notare che non si va a casa del padrone dopo averlo pignorato, io ho spiegato che non è così, cioè che la legge è il padrone. Ma pare che in Sicilia questo principio per cui le cose insomma devono avere delle regole non valga. Ma perché, mi perdoni, anche questa altra particolarità, cosa c'entra la convocazione con un organo istituzionale dell'Assemblea regionale, visto che le posizioni fiscali, le obbligazioni fiscali e gli eventuali posizioni di ritardo di pagamento sono individuali e personali? Cosa c'entra con l'istituzione? Il motivo era più ampio, nel senso che si voleva chiedermi che cosa stesse accadendo in riscossione Sicilia, come andava, perché per esempio nelle settimane precedenti avevo proceduto ad abolire l'albo degli avvocati, lei consideri che riscossione Sicilia, che è Equitalia in Sicilia l'equivalente, aveva un esercito di 887 avvocati incaricati. Ma come è possibile 887? 887. Lei sa molto meglio di me che la Casa Bianca, che è un'istituzione un po' più impegnata nel mondo, ha poco più di 200... Cioè, riscossione Sicilia aveva più di quattro volte il totale di consulenti legali e avvocati che cooperavano per il legale più di quattro volte della Casa Bianca. Esattamente. Allora io ovviamente ho abolito questi elenchi. Siccome queste scelte in passato non è che sono state orfane, hanno padre e madre, allora diciamo che questa azione di trasparenza, come l'era chiamata, non è piaciuta. Probabilmente qualcuno chiederà le mie... Anzi, sono certo che chiederanno le mie dimissioni, perché... No, intanto non hanno ricapitalizzato la società, che è un bel segnale che a questo punto forse qualche collegamento con questa novità che io lunedì non conoscevo, quindi mi batto il petto, io per questo l'ho chiamata. No, no, non lo dica. No, no, no. Io non lo conosco. Siccome no. Non lo ascolto. Eh, ma sono sincero. Per averlo detto, per averlo detto, ho ottenuto un primato, c'è il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che è uno dei parlamenti più antichi del mondo, così si dice, ha convocato un Consiglio di Presidenza il 31 di dicembre, in una terra che ha qualche problemuccio, per dare incarico, perché per aver detto che mi sembrava un gesto di pirateria politica e di irresponsabilità agire in questa maniera, per vendetta, ha dato mandato perché mi si denunciasse per difamazione e per attentato ad un corpo politico. Ah, cioè lei mi sta dicendo è meglio che non lo dici perché sennò denuncia neanche te. Io la ringrazio, però voglio dire, la cosa pazzesca... ... Grazie a tutti